una piccola goccia contro un grande ragazzo come questo pressione normale basco fix per incollarle la gomma vetro, metallo, legno, materiali diversi sempre così una goccia di colla per chiudere dove sono buchi, scanalature, creppe pezzi che mancano si mette prima la colla poi si mette la polverina chiudere per fare volume oppure per rinforzare la plastica sottile per rinforzare numero 3 è solvente per pulire e numero 4 è preparatore solo per la plastica plastiche non sono porose basa paratino per tutte le plastiche è obbligatorio un pretrattamento che apre i pori poi si mette la colla quando lavoriamo con la colla mettiamo un straccio vecchio pulizia prima con la lima con la carta vetratta oppure con il solvente poi una goccia lì una là come fa signore perfetto non reagisce all'aria altra parte anche pulizia un po' distribuzione anche per la gomma che lo guarda sì che è la cosa prego chiudi basta solo un pressione passa fin sì 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 dentro c'è anche basa da legno ecologica per conservare tutti insieme tutti verticali e anche come protezione da non cade 25 euro perfetto grazie